Ciao, benvenuti sul mio canale YouTube. Sono amante della musica in generale e non soltanto della musica classica. Sin da piccola la musica e il canto hanno animato le mie emozioni. Ho iniziato lo studio prima passando attraverso lo stile leggero, quindi diversi stili, dance, pop e le varie band rock che hanno animato la mia adolescenza. E poi ad un certo punto ho scoperto il mondo dell'opera lirica. Ho iniziato il mio percorso di studi, sono entrata in conservatorio e dopo il conservatorio ho iniziato ad esibirmi in vari palcoscenici, sia in Italia che all'estero, e ho conosciuto delle persone veramente fantastiche. Per comunicare con voi le mie emozioni ho deciso di aprire un canale, un canale YouTube. Iscrivetevi numerosi, vi aspetto e nel frattempo vi saluto.